Sono trascorsi 43 anni dallo scoppio della bomba di Piazza Fontana alla Banca dell'Agricoltura di Milano. La diciottesima vittima di questa strage è stata il ferroviare anarchico Pino Pinelli, morto in questura in circostanze che nessun processo ha mai chiarito. In questo documento parla la famiglia, colpita brutalmente da quel lutto improvviso. È una testimonianza che rimane per non dimenticare e per raccontare ai giovani e alle generazioni future un pezzo di storia del nostro paese. Il clima del 1969. Io non vivevo in una maniera molto marginale poiché lavoravo in casa e quindi non partecipavo a quelle che erano i moti e le rivendicazioni varie solo per sentito dire. Me lo raccontavano. Qualche cosa mi aveva messo un po' in allarme. Sentivo molto gli studenti che raccontavano delle contestazioni sia operaie che loro. Però ero sempre ai margini, ero sempre in casa. Il 12 dicembre è stata la giornata che ricorderò per tutta la vita. Pino che lavorava in ferrovia, quindi Giuseppe Pinelli, mio marito, lavorava in ferrovia. Aveva fatto la notte perché in ferrovia si fanno i turni. Era andato a dormire, avevo portato le bambine a scuola, era arrivato un conoscente al quale lui aveva dato appuntamento. Pino si è alzato, ha fatto da mangiare, abbiamo mangiato tutti insieme e poi lui e questo conoscente sono usciti perché Pino doveva andare a prendere la tredicesima. Questa è l'ultima volta che ho visto mio marito. Vivo. L'ho rivisto sul tavolo dell'obitorio del Fratelli. Verso le 20 sono arrivati dei poliziotti a fare una perquisizione in casa. Non sapevo cosa fosse successo perché la nostra televisione era rotta. Hanno telefonato in questura per dire che Pino non era a casa e loro hanno detto che Pino era là. Più tardi Pino ha telefonato dicendo che erano moltissimi in questura per interrogarle eccetera di stare tranquilla che non era niente di grave. Ancora non sapevo che cosa fosse successo. Ho telefonato a mia suocera e lei mi ha detto mi ha scoppiato una bomba alla banca dell'agricoltura. Poi dopo verso mezzanotte sono arrivati questi due giornalisti che mi hanno detto che mio marito era caduto da una finestra. Ho telefonato in questura immediatamente chiedendo del dottor Calabrese dicendogli due giornalisti mi hanno detto che mio marito è caduto dalla finestra. Perché non mi avete avvisato? E lui mi ha risposto ma sa signora siamo molto occupati. Mia suocera che dormiva con me nel frattempo si era vestita è scivolata tra i due giornalisti che erano ancora fuori dalla porta ed è andata immediatamente a Fatebene Fratelli dicendomi vado io lei pensi alle bambine. Ho telefonato due amici Elisabetta e Bruno. Elisabetta ha portato le bambine a casa sua. Bruno mi ha accompagnato a Fatebene Fratelli e io ho rivisto mio marito solo su quella barella morto. Tornate a casa mia suocera è molto più lungimirante di me. Mi dice Salicea vedrà domani i giornali e daranno a lui la colpa. La cosa mi ha riscosso proprio e ho detto va bene. Dico loro faranno questo ci siamo anche noi. Abbiamo iniziato la nostra battaglia chiamiamola così. Quando tu pensi a uno stato di diritto pensi di poter fare queste cose. Me ne sono accorta tardi che l'Italia non era uno stato del diritto. Con degli amici abbiamo cominciato a parlare. Sono arrivati tre avvocati, Marcello Gentili, Contestabile e Palmieri. Con loro abbiamo iniziato querelando il questore. Perché nel frattempo che mio marito era al Fatebene Fratelli morto il questore guida con i suoi funzionari compreso il dottor Calabresi, il dottore Allegra eccetera che dicevano che mio marito si era suicidato perché fortemente indiziato. Alla morte non potevamo porre rimedio ma la diffamazione sì e l'abbiamo fatto. E c'è stato il giorno dei funerali. C'erano tante persone che non mi sarei mai aspettata di vedere. È stato molto doloroso nel senso che bisognava mantenere distacco. Distacco per non dare la soddisfazione a coloro che avevano fatto quello che io penso. Non ho pianto ai funerali perché era un sentimento molto forte e dovevo concentrarmi sul da fare, sul difendere la memoria di mio marito. Devi concentrarti su quello che devi fare. La debolezza non è ammessa e ti indebolisci se hai dei rimpianti se pensi alla persona che non rivedrai più. Siamo arrivati poi a Musocco in pochi perché poi la polizia aveva disperso tutte le persone che erano venute. E lì sulla tomba di Pino hanno cantato a Dio Luganobella e anche lì è stato molto molto difficile controllarsi. Le bambine non c'erano al funerale. raccontando loro che cosa? Quello è stato un altro dei momenti più duri. Ho detto alle bambine che il padre stava male ed ero in ospedale. E poi verso sera ho detto non ce l'ha fatta. Ed è stato tremendo. Sentire una piangere disperatamente e l'altra dirmi chi è stato. Signora Pinelli, lei comunque in tutti questi anni non ha mai avuto giustizia nel senso che un processo effettivo sulle cause della morte di suo marito non c'è mai stato. No, non c'è mai stata. Noi non abbiamo mai avuto un processo. L'unico è stato quello di lotta continua che per conto mio questa campagna fatta contro il commissario Calabresi era appunto per arrivare a un processo. Secondo il mio parere stavano vincendo quelli di lotta continua. Il professor Baldelli sarebbe stato assolto. Hanno avanzato Calabresi e per conto mio non sono state le tre persone che sono state condannate. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente Giuseppe Pinelli che fu vittima due volte. Lo Stato nella persona del presidente napolitano ha riconosciuto nella giornata del 7 maggio del 2009 dopo 40 anni l'assurda morte di Pino e il non coinvolgimento in nessuna trama eversiva. Ho sofferto moltissimo ma nonostante ciò continuo a credere in uno Stato di diritto e che la giustizia diventi veramente giustizia. Anche per tutti gli altri casi che sono successi in Italia che hanno veramente sconvolto l'opinione pubblica. Io nel 1969 avevo otto anni. Dell'epoca ricordo le persone che venivano in casa e ne parlavano soprattutto. Mi ricordo che in quell'anno mio padre stava molto di più fuori di casa. Mio padre Giuseppe Pinelli era nato nel 28 a Milano da una famiglia operaia. Molto presto dovete abbandonare gli studi per aiutare i genitori. Conosceva molte persone. Era impegnato in diversi ambienti, non solo nell'ambiente anarchico, tanto che i primi che si mossero a fianco a mia mamma furono cattolici, cattolici del dissenso, assistente universitario dell'Università Cattolica, che avevano conosciuto Pino frequentando la nostra casa, facendosi scrivere a macchina d'Alicia le tesi di laurea e le loro relazioni. A 16 anni era stata staffetta partigiana nella Brigata Franco. Ha sempre avuto questo senso di giustizia profonda, di senso di legalità e molto presa a braccia gli ideali anarchici. Erano stati arrestati dai giovani anarchici per gli attentati che c'erano stati alla Fiera di Milano il 25 aprile 1969 e sui treni, nell'agosto sempre dello stesso anno. Pino attraverso la coce nera anarchica aveva assicurato loro l'assistenza legale, mandava generi di conforto, gli scriveva, tra l'altro l'ultima lettera che lui ha scritto, era scritta nel pomeriggio del 12 dicembre a uno di questi giovani anarchici arrestati, Paolo Faccioli. Ed è un po' il suo testamento in cui lui dice in questa lettera che noi abbiamo per fortuna l'anarchismo non è violenza, la rigettiamo. L'anarchia è responsabilità, non vogliamo neanche subirla la violenza però. Non è letterale quello che ti sto riportando, però per me è un significato fortissimo. Conobbe mia madre tra l'altro ad un corso di esperanto che allora era quella lingua universale che avrebbe unito i popoli di tutto il mondo. Prima delle 55 comunque vince un concorso alle ferrovie e nel 55 si sposano. Nel 60 nasco io e nel 61 mia sorella. Del suo impegno sempre più forte sia nel movimento anarchico che nel sindacato. Quando tornavano e discutevano mio padre e mia madre, lì ci avrebbe voluto avere Pino più presente in casa. Era un padre molto molto affettuoso, era molto attento alle nostre esigenze, amava seguirci nello studio, nel gioco. Anche se tanto tempo libero non l'aveva perché comunque lavorando in ferrovia aveva i turni e a volte capitava che dovesse assentarsi per parecchi giorni. La nostra era una casa aperta. Avevamo sempre gente in casa, oltre agli anarchici che devo dire neanche tantissimi, molti studenti. Mio padre aveva una targhetta in legno che teneva sempre bene esposta in casa, a parte che la nostra era una casa piccolissima perché erano due locali. Con suo scritto io sono un anarchico per provocare la discussione, perché gli piaceva sentire le opinioni degli altri, scambiare i pareri. Invitava gente a cena e quindi poi spariva in cucina e preparava risotto per tutti. Pino era una persona estremamente estroversa, assetato di conoscenza, molto disposto e disponibile verso gli altri, verso le persone, verso le idee. Conosceva moltissimi cattolici del dissenso, tra cui Gozzini che è stato il primo obiettore di coscienza cattolica in Italia e per questo era andato in galera. C'è una lettera assolutamente toccante di Giuseppe Gozzini, subito dopo la morte di Pino, con quello che i giornali dicevano di lui, scrisse immediatamente una lettera ai giornali dicendo restituitemi i pinelli che io ho conosciuto. Con coraggio queste persone hanno agito subito. Sono venute a prendere mia sorella, ci hanno ospitato a casa d'ora, sono tornate in questura a prendere il motorino, con cui Pino era entrato in questura. Non ebbero nessun dubbio. Di quel 12 dicembre ricordo che io e mia sorella stavamo correndo a casa perché mio padre doveva essere smontato dalla notte e quindi avremmo dovuto trovarlo a casa. Di quel 12 dicembre mi ricordo noi che torniamo a casa e facciamo le scale di corsa. È arrivata la nostra porta, la porta era spalancata e ci sono delle persone, degli uomini che stanno frugando dappertutto. La porta era spalancata e io mi ricordo di essere rimasta ferma sulla soglia della porta e aver assistito a questo sfacero che c'era. C'era roba dappertutto, tutta buttata per terra. Aprono tutto. La casa era molto piccola, tirano fuori tutto. Il poliziotto dice a un altro brigadiere che qui ci sono ancora carte, c'è ancora tanta carta. Mia madre che cerca di spiegare che sono tesi di lauree che le sono particolarmente piaciute, che le sono state date dagli studenti. Comunque loro portano via tantissima carta, aprono i regali di Natale che erano stati nascosti dentro l'armadio. Poi, quando se ne sono andati, mi ricordo mia madre che si era messa con mia nonna, la madre di Pino, a mettere a posto la casa e ci diede giocattoli. La sera poi mia madre ci spiegò che Pino non... che il nostro padre non tornava perché era stato fermato, che era successo un fatto gravissimo, che c'erano stati dei morti, ma che il nostro padre non c'entrava assolutamente niente e disse che gli faranno prendere un bello spaghetto e poi lo faranno tornare a casa. Mi ricordo molto bene questa frase perché io le chiesi che cosa voleva dire prendere un spaghetto. Per distrarci ci lesse il topolino e nel topolino c'era un quiz, se lo sai rispondi, e avevamo risposto a quelle domande e una non riuscivamo a risolverla. E l'ho detto che quando torna papà poi... Dopo tre giorni, la sera del 15 dicembre, veniamo svegliate da mia mamma che ci fa vestire e aveva chiamato dei nostri amici, Bruno e Elisabetta, e ci portarono a casa loro. E la mattina dopo arrivò mia mamma, penso che avesse passato tutta la notte in ospedale, e ci disse, ci prese in disparte e ci disse che mio padre stava molto male e non si sa se ce l'avrebbe fatta, e ci disse di pregare. Però avevo intuito che c'era qualche cosa di più grave, tant'è vero che la mia madre che era stato a fargli male. E mia madre... Mia madre disse dei poliziotti. Noi non partecipammo ai funerali di mio padre. Quando tornò a casa, corrimmo incontro a mia madre, e io chiedendole come sta papà, perché lei ci aveva detto che papà era grave, era in ospedale. E mia sorella mi disse che il papà è morto. Quando Piene è volato dalla finestra, è precipitato nel cortile della questura, nessuno degli agenti presenti nella stanza, presenti in questura, è sceso nel cortile. Era morto nessuno, un ferroviere, un anarchico. Diranno a Alicia, non pensavamo che un anarchico avesse tanti amici. E dopo la sua morte questo si è visto. Si è sentito. Non nell'immediato. Nell'immediato ci sono state le dichiarazioni infamanti del questore. In questa conferenza stampa immediatamente dopo la morte di Piene, in cui lo si incolpava di essersi suicidato a dimostrazione della colpovolezza. Tutte le annunce presentate da Alicia sono finite in archiviazioni, su cui non si è mai indagato, perché il primo giudice ad essere uscito sul luogo della sua morte è stato il giudice D'Ambrosio, a tre anni di distanza dal fatto. Nessuno fu mai chiamato a rispondere. Della morte di un innocente, trattenuto illegalmente in questura per tre giorni, il fermo poteva durare 48 ore, durò oltre 72 ore. Silvia, come ho chiesto a sua madre, un processo sulla morte di vostro padre, di Pino Pinelli, voi non l'avete mai avuto. No, perché l'ultima istruttoria, quella condotta dal giudice Gerardo D'Ambrosio, si è chiusa con una sentenza di malore attivo. Cioè, nel senso che mio padre non si è suicidato, ma non l'hanno neanche buttato. Ed è... di che cosa si è morto ancora non lo sappiamo. E non sappiamo che cosa sia avvenuto in quella stanza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte. Quando è giunto completamente inaspettato l'invito del Presidente della Repubblica, erano anni che di Pino non si parlava più. Si cercava di non parlarne più. E lì abbiamo potuto ascoltare le parole che il Presidente della Repubblica ha detto davanti a tutta l'Italia, davanti a tutto il mondo. Con estremo coraggio. Ha parlato di... di mio padre come di un innocente vittima due volte, di infondati sospetti di un'assurda fine. Noi abbiamo avuto dopo 40 anni il riconoscimento dal Capo dello Stato. Ma noi penso che il riconoscimento più grande sia venuto dalle persone che mio padre non l'hanno mai dimenticato, che ci hanno seguito e che continuano a cercare che non si dimentichi e che si arrivi un giorno a sapere effettivamente cosa è successo con la notte. Quando ero piccola pensavo un giorno ci chiederanno scusa. E quel giorno è arrivato. Di cui va riaffermata e onorata la linearità sottraendolo alla rimozione e all'obbligo. In quell'occasione abbiamo incontrato i familiari delle vittime di Piazza Fontana perché le nostre storie avevano percorso fino a quel momento binari paralleli ma non si erano mai incontrate. È stato un incontro estremamente significativo. Ci siamo riconosciuti in una storia di verità e giustizia negate. Noi abbiamo sempre avuto lo Stato contro. Loro non pensavano ma hanno dovuto riconoscere che nello Stato c'è chi ha coperto, depistato e chi non gli ha voluto dare una verità, una giustizia. Nella sentenza del 2005 vengono assolti tutti gli imputati indicati in fredda e ventura i responsabili della strage non più processabili perché già assolti in precedenti procedimenti e i familiari delle vittime di Piazza Fontana vengono condannati a pagare le spese processuali. E ciò nonostante lei, Claudio Pinelli ha fiducia ancora nella giustizia italiana? È molto difficile come domanda. Io ho fiducia nella verità c'è una verità storica e noi portiamo avanti la verità storica di fronte a una mancata verità giudiziaria su tanti morti e su tutte le stragi. In Piazza Fontana ricorrono mio padre due lapidi una che fu posta dagli studenti dei democratici milanesi nel 1976 al termine di una manifestazione che dice a Giuseppe Pinelli ucciso innocente nel locale della questione di Milano e un'altra invece che venne posta nel 2003 da sindaco Albertini cioè dal comune di Milano dove dice ferroviere anarchico è morto tragicamente nei locali della questione di Milano. Vorrei leggere questa lettera che Giuseppe Gozzini che è stato il primo obiettore di coscienza cattolico in Italia che aveva conosciuto papà scrisse subito dopo la morte di Pino e la mandò ai giornali e la lettera venne pubblicata Il mio primo incontro con Pinelli risale da alcuni anni fa sapeva che ero stato il primo obiettore di coscienza cattolico in Italia conosceva, e non per sentito dire movimenti e gruppi che si ispiravano alla non violenza e voleva discutere con me sulla possibilità che la non violenza diventasse strumento d'azione e l'obiezione di coscienza stile di vita impegno sociale permanente Poi ci vedemmo in molte altre occasioni e i punti fermi della nostra amicizia divennero Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani due preti scomodi che hanno lasciato il segno e non solo nella chiesa Viveva dal suo lavoro povero come gli uccelli dell'aria solido negli affetti assetato di amicizie e gli amici discuteva con la sua inesoribile carica umana le etichette non mi sono mai piaciute quella che hanno appioppato a Pinelli anarchico individualista è melenza, per non dire sconce si è sempre battuto infatti contro l'individualismo delle coscienze addomesticate lui, ateo, aiutava i cristiani a credere non ignorava le radici sociali dell'ingiustizia ma non aveva fiducia nei mutamenti radicali nelle rivoluzioni che lasciano gli uomini come prima paziente, candido scoperto nel suo quotidiano impegno era lontano dagli estremismi alla moda poi d'improvviso l'arresto gli interrogatori la tragica fine dalle pagine e dagli giornali mi appare la sua immagine deformata in una lente mostruosa era un bravo ragazzo, scrivono, però e le fantasie si accendono ma quali sono i veri indizi i sospetti fondati voglio che mi sia restituita la memoria del Pinelli quello vero che io ho conosciuto Giuseppe Guzzini Milano dicembre 1969 Sor quest'ore io ce l'ho già detto le ripeto che sono innocente anarchia non vuol dire bombe ma giustizia nella libertà addio Lugano bella o dolce terrapia scacciati senza colpa gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore e partono cantando con la speranza in cuore ed è per voi sfruttati per voi lavoratori che siamo ammalettati al par dei malfattori eppur la nostra idea è solo idea d'amore eppur la nostra idea è solo idea d'amore